Adesso è possibile comprare di tutto usando bitcoin, anche caffè. In realtà è sempre stato possibile, a condizione che l'esercente accettasse direttamente bitcoin. Adesso ci sono anche molti metodi indiretti tramite cui è possibile spendere bitcoin, quindi come carte di credito per quanto riguarda chi effettua il pagamento, oppure soluzioni intermedie come quella che offriamo noi in bitcoin dal punto di vista dell'esercente, che sono piattaforme che permettono a tutti di accettare i pagamenti in bitcoin, anche se poi alla fine si vogliono tenere euro, anche se abbiamo visto che quasi tutti i nostri clienti dopo qualche settimana decidono di tenere bitcoin. Indegabilmente per quanto riguarda un esercente il vantaggio poi di mantenere bitcoin, una volta ricevuto un pagamento, tendenzialmente sia di immagine, perché comunque è qualcosa di nuovo che è molto spendibile dal punto di vista del marketing, ovviamente se ha un determinato volume e ci si espone alla volatilità, fino adesso è stata statisticamente positiva, quindi c'è stato anche un, per quanto minimo, visti i bassi volumi, comunque un ritorno anche economico, perché ha deciso di tenere bitcoin, e in generale diciamo una facilità di utilizzo e un'immediatezza nel rapporto col denaro che si è persa, ovviamente nell'utilizzare carte di credito, banco, mat, ma dopo tutto anche il contante, perché comunque non c'è più nessun sottostante diciamo concreto, se non la fiducia verso chi emette quella valuta. Di sicuro il futuro di bitcoin è legato al futuro della tecnologia, quindi più che della tecnologia blockchain, che comunque è un'idea che rimarrà alla blockchain di bitcoin, che come tutte le tecnologie diciamo vive di effetto rete, perché ovviamente se io utilizzo bitcoin e sono l'unico a utilizzare bitcoin, non ha nessun vantaggio e ovviamente non sono spendibili da nessuna parte, quindi diciamo come tutte le tecnologie anche bitcoin si basa molto sull'effetto network, più utilizziamo bitcoin, più abbiamo vantaggio a utilizzare bitcoin, e più è facile, più è capillare utilizzare bitcoin. Al mondo esistono molte molte criptovalute, si stima fra i 1500 e i 2000, perché comunque è una tematica che ha fatto molto scalpore, che ha fatto molta notizia, di solito molto spesso anche abbinata a rapidi movimenti di prezzo. Quindi diciamo la stragrande maggioranza delle criptovalute sono nate per capitalizzare su questo impulso speculativo, infatti molte di esse sono semplicemente una narrazione accattivante e tecnologia copiata spesso male. Alcune invece a partire da bitcoin sono nati con effettivi intenti diciamo accademici o comunque tecnologici e effettivamente portano determinate innovazioni che sembrerebbe possano rivoluzionare determinati settori ovviamente del nostro mondo. Molte persone adesso conoscono già bitcoin, quindi la domanda che ci viene posta non è più cos'è bitcoin, ma è cosa devo fare, conviene investire in bitcoin, quello che io dico sempre che noi in generale diciamo sempre è che c'è un solo tipo di investimento con ritorni garantiti per quanto riguarda bitcoin, blockchain, le criptovalute in generale. Questo investimento è l'investimento di tempo, risorse, anche magari denaro, comunque impegno però nell'informazione, nell'educazione, nello studio di come effettivamente funzionano questi sistemi, di che implicazioni possono avere e di che tipo di ricadute su che tipo di settori potrebbero avere, anche perché diciamo una volta che si assume questa consapevolezza si può anche decidere autonomamente senza dover chiedere a nessuno se diventa opportuno anche un investimento monetario. Se qualcuno poi volesse comprare bitcoin ci sono vari metodi, l'idea comunque è che essendo una valuta di base io devo cambiare una valuta già esistente o che ho già per un'altra valuta, in questo caso bitcoin, quindi si può fare sia in compramente fra privati che tramite exchange, cioè luoghi di cambio fisici o virtuali. Ci sono sia siti di brokeraggio che permettono appunto di comprare bitcoin a mercato, quindi con costi inferiori, ma ovviamente con maggiori rischi perché spesso si appoggiano a compagnie che hanno sede all'estero e che quindi non sono così affidabili come quelle nostrane o comunque quelle certificate, oppure tramite negozi fisici, che ovviamente hanno la comodità di poterci si recare di persona, di poter usare contanti e di avere una facciata pubblica localizzata ovviamente nel posto dove si è, a cui poi potessi anche rivolgere nel caso ci fossero problemi. L'obiezione nei confronti dell'evasione fiscale che si è facilitata da bitcoin è abbastanza immotivata, perché in realtà la blockchain o comunque la tecnologia su cui si basa bitcoin è tutto il contrario di un comportamento evasivo, perché sulla blockchain tutto è indelebile, tutto è registrato, bitcoin non è anonimo come spesso si sente dire, ma è pseudonimo, quindi se si volesse diciamo avere un sistema tributario che consideri anche bitcoin, quindi con diciamo determinate verifiche, si avrebbe una trasparenza completa. Il fatto che magari adesso talvolta bitcoin venga associato all'evasione fiscale non è legato a bitcoin in sé, ma è legato piuttosto alla negligenza da parte del regolatore o comunque di chi è preposto a monitorare, sfruttare e regolamentare questi fenomeni, che invece se utilizzati propriamente sarebbero strumenti molto importanti anche nella mano di chi gestisce la fiscalità.